Presidente Totti, allora un incontro possiamo definire del dopo elezioni, dopo risultato elettorale positivo delle regionali, si guarda anche all'amministrativa immagini? È un incontro per preparare la macchina del partito, la tornata amministrativa che in Liguria ha una valenza minore rispetto ad altri centri d'Italia, ovviamente si vota a Torino, a Milano, a Roma, a Napoli, quindi è di tutta evidenza che la Liguria in questo non sta giocando la parte della protagonista, c'è un capoluogo importante come Savona, ci sono tanti piccoli comuni che non vanno sottovalutati e che sono magari piccoli come abitanti, ma sono importanti per l'economia della Liguria, per il traino turistico, per l'indotto che hanno e quindi è una tornata elettorale che prendiamo in modo molto serio. Ad esempio Diano Marina, avete già deciso qualcosa? Ora vi comunicheremo le decisioni della coalizione al momento opportuno, abbiamo deciso che la coalizione così come governo Uniti in Regione si presenterà unita in tutti i comuni della Liguria perché questo è il nostro primo obiettivo, è il mio principale obiettivo, io voglio una coerenza tra il centro-destra che governa la regione e il centro-destra che governa i comuni, anche in vista poi di una sfida importante per la conquista del paese che ci deve vedere uniti e compatti, anche in vista di una legge l'Italicum che ci costringe anche a mettere una lista tutti insieme, quindi c'è bisogno di un percorso che è complicato, che è lungo, di amalgama delle classi dirigenti, dai piccoli paesi fino alle grandi città, ma qua in Liguria siamo all'avanguardia su questo e siamo sulla buona strada, sono molto soddisfatto. E c'è anche in strada la fondazione del Presidente Totti, che cosa vuol dire, che cos'è questo? La fondazione non è una fondazione del Presidente Totti, è una fondazione di tante persone e deve servire, vede, la legge nazionale ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti, la politica di qualcosa si deve pure sostanziare, le campagne elettorali si pagano ed è giusto che si paghino, quindi è giusto che ci siano finanziamenti privati, trasparenti, limpidi sotto gli occhi degli elettori che sappiano e chi vuole contribuire alla sua parte politica lo possa fare in tutta trasparenza e in tutta sicurezza, in questo senso ne abbiamo ragionato spesso nel Comitato dei coordinatori regionali con l'amico Biasotti e anche col Presidente Berlusconi, di dotare di strumenti finanziari idonei i partiti del centro-destra perché possano mantenersi sul territorio e fare la propria attività politica, di questo si tratta, prima o poi, non so dirle una data, lavoreremo a creare uno strumento che consente al fianco dei partiti anche di consentire ai militanti, ai sostenitori di dare il proprio contributo in termini fattivi, è una politica che non deve gravare sulle tasche di tutti i cittadini ma deve essere finanziato da chi vuole farlo, da chi ci crede, da chi crede nel nostro programma politico. Assessore Scagliola, un incontro con gli amministratori, il Presidente Totti, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è fare il punto della situazione, confrontarci con il nostro Presidente, e vederci dopo il grande risultato del centro-destra e anche di Forza Italia qui in provincia d'Imperia, una prima giornata, ci saranno amministratori, gli eletti di Forza Italia e non sono, tanti amministratori, attraverso la provincia d'Imperia il centro-destra si sta riorganizzando a livello regionale e nazionale, è un primo incontro, parleremo di problemi concreti, parleremo di politica nazionale e locale, la voglia è quella di rimettersi insieme e ripartire e riorganizzare il centro-destra dopo dieci anni di burlando, dopo dieci anni di occupazione anche di questo territorio e vediamo i risultati di diverse amministrazioni in primis Imperia, quindi c'è una volontà di ridare forza, coraggio e dignità ad una provincia, ad una regione che merita sicuramente di più di quanto ha avuto in questi ultimi anni. Sandro Biasotti, allora inizia questa analisi del territorio dopo le elezioni per prepararsi ai nuovi appuntamenti, alle nuove scadenze, qui quella più importante è sicuramente quella di Diano Marina, più tanti paesi, ma c'è anche questo discorso della fondazione lanciato da Toti, ecco, il suo giudizio di coordinatore regionale qual è? Ma come ha detto il Presidente, il problema del finanziamento pubblico e trasparente ai partiti è basilare, cioè noi dobbiamo fare campagna elettorale, visto che non c'è più questo finanziamento pubblico, secondo me è una cosa sbagliata, perché è sbagliato come è stato gestito il denaro pubblico, ma non il finanziamento pubblico, quindi abbiamo pensato di costituire questa fondazione che presenteremo di qui a un mese, in tutta la Liguria, che serve per sostenere non tanto solo le campagne elettorali, ma la vita politica, quindi convegni, dibattiti, incontri, ci sono tanti argomenti, dalle adozioni alle nozze, alle unioni civili, al tema dell'Europa, quindi insomma... Insomma non è una corrente di Toti, ecco questo... No, assolutamente, è una corrente dei moderati, di centrodestra, Forza Italia ne è il motore preponderante, però è una fondazione che permette anche a chi non è tesserato, a chi non vuole fare vita politica, di entrare a far parte o di sostenerla.